Sarà meglio dare la parola ad Heisenberg, uno dei geni della quantistica, che afferma non è possibile compiere osservazioni senza interferire con il fenomeno osservato. Gli effetti quantici che introduciamo con l'osservazione comportano automaticamente un certo grado di indeterminabilità del fenomeno osservato. Ciò significa che è proprio nel momento in cui, grazie all'osservazione, la coscienza interagisce con le onde di possibilità, che è come se queste, in una sorta di dissolvenza incrociata, lasciassero il posto a una soltanto nella dimensione materiale misurabile.